Monterosa Ski, Alagna Gressonet Shampoluk Giovedì 8 febbraio 2024 E in questo quarto video della quarta giornata andremo a fare le piste B1, B6 e B5 da Bettaforca fino a Stafano Riprese con GoPro Hero 11 in 4K 60fps Hyperview E intanto siamo arrivati al colle Bettaforca 2727 metri sul livello del mare E iniziamo sulla B1 pistone Betta rossa, che ormai conosciamo bene E iniziamo a fare le piste Grazie a tutti 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 potete seguirmi anche su Instagram dove trovate foto per il vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo e qui ci immettiamo sulla B5 diretta a Stafal, pista rossa a Stafal a Stafal Siamo arrivati a Stafal, 1830 metri sul livello del mare e andiamo a prendere l'impianto a Stafal, via Stafal, via